Una storia in apparenza come tante, con tre protagonisti, gli alberi al centro di tutto, la pubblica amministrazione che li gestisce, il dottore agronomo che ne ha cura. Insieme, forse appassionatamente, sono i protagonisti di una storia, tanto semplice quanto interessante, il racconto della valutazione di stabilità degli alberi nella città di Padova per l'anno 2015. Come riuscirci però? Come mettere insieme alberi, notizie, lavoro, in maniera curiosa e avvincente? Ma certo, un'idea, con il diario di bordo. Il diario di bordo, il passo dopo passo di un lavoro fatto da chi gli alberi li conosce molto bene, cercando di dare risalto a una importante professionalità, insieme a un'azione educativa e informativa rivolta al grande pubblico. In sostanza, un'esperienza narrativa capace di spiegare i piccoli e i grandi segreti del prezioso mondo degli alberi che abitano le nostre città, visti attraverso l'occhio di un esperto arboricoltore. Se vuoi anche tu saperne di più, segui l'intera storia su docgreen.it e buona lettura! Grazie a tutti!